Dare un segnale della presenza dello Stato in una città dove la criminalità ha alzato il tiro negli ultimi mesi, la festa per il 170esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato a Barletta, per la prima volta in questa provincia dopo l'istituzione della questura e proprio all'indomani dell'omicidio del titolare di un bar. Esserci sempre, dice il questore Roberto Pellicone, che parla di emergenza sicurezza sull'intero territorio e dell'impegno comunque delle forze dell'ordine. È nota la presenza della criminalità che asfissa questo territorio, però dobbiamo dire che i risultati ci sono stati da parte non solo della Polizia di Stato ma anche delle altre forze di polizia. Lavoriamo in certa sinergia con la Procura, con la Prefettura e con le altre componenti istituzionali. L'impegno è costante, da otto mesi, dal momento di nascere la questura abbiamo ottenuto, a mio modo di vedere, grandi risultati, ma speriamo di ottenere altri anche nel proseguo. I sindacati chiedono rinforzi, ribadisce il suo appello alle istituzioni il capo della Procura di Trani, Renato Nitti, che ringrazia la Polizia e le forze dell'ordine, a cui dice chiesto uno sforzo sovrumano. A volte per alcuni servizi abbiamo meno del 50%, il 50% è meno, a volte più del 50%. Ci sono casi in cui abbiamo a volte quattro volte di meno rispetto ad altri territori con lo stesso numero di abitanti. Quanto possiamo chiedere ancora alla Polizia di Stato che è in questo territorio? Quanto possiamo chiedere ancora fin tanto che non sia adeguatamente rinforzato?